Ancora per Jantunen, stoppato, un po' passivo Jantunen in questa occasione. Spedito per Jantunen che parte in uno contro uno, chiude bene la difesa di Reggio, allora prova in qualche modo il pallone verso Jantunen, ancora qui a Treviso e si porta a casa la vittoria. E' la stoppata adesso di un altro giocatore che faremo bene a tenere d'occhio nel corso della stagione, qui inquadrato, Nathan Rewers, dall'acqua, capire come finirà il match, finisce così con la stoppata di Nathan Rewers e con Reggio Emilia che vince 78 a 5. Ancora fuori per Daung, attacca Rewers, molto passivo in questo caso, Rewers che però sfrutta le sue lunghe lezioni di Robertson. Taglio lungo la linea di fondo, ancora stoppata di Rewers. Al centro dell'area, ma lì ci sono solo maglie nere, Criston con le quattro ruote motrici, va su, stoppata ancora una volta di Rewers, bravissimo Severini a conquistare il pallone e a conquistare due liberi. Presentissimo Severini in questa situazione, non si lascia impressionare dalla stoppata di Rewers. Qui a Treviso e si porta a casa la vittoria, la stoppata adesso di un altro giocatore che faremo bene. Guardi, vedremo se sfrutterà il mismatch, lo sfrutta, prova ad andare al tabellone, sbagliato, rimbalzo di Caruso, stoppato da parte di Rewers. E allora inflazione di 24 secondi per la Open Job Mattis in questa situazione. Vol de Tensa è stoppato da Rewers, come detto Rewers scopre il perimetro e Rewers oggi sta trovando soluzioni da lì. Buon movimento di Perkins che va su, si protegge, stoppata in coabitazione di Uff Rewers. Poi arriva un'altra stoppata, la terza stoppata stavolta di Strautis. Rewers aizza il pubblico che apprezza queste giocate. Tre stoppate di fila da parte dei giocatori reggiani nel pitturato della squadra del quinquadrato. Raggiana, Berinelli, ferma il palleggio, grappalla per Paco, Scengheli a rimorchio, arriva, stoppata di Rewers. Si lamenta Scarolo per un contatto su Scengheli sotto canestro. Sì, probabilmente è stato un contatto non rilevato. Contro Cinciarini, può andare fino in fondo, gran palla sotto per Johnson che perde per un attimo la maniglia. Poi va al tiro, sbagliata, ancora Diup, lotta, Smith, Diup ancora con la stoppata! E poi... Proprio bene a Julian Stone, il blocco di Thompson. Stone, altra penetrazione e arriva la stoppata di Rewers, poi Thompson. Si torna da Julian Stone, ancora Lamb. C'è ancora un problema però con il top of the stone. Centro per Pinkins, contro tanti avversari. Alla fine alla meglio di Uff, c'è un fischio, c'è un fa. Stone, quattro secondi, arriva fino in fondo, Rewers lo stoppa ancora una volta. Il re delle stoppate dell'Elevia. Quello che dovrebbe essere l'ultimo possesso del secondo quarto, Davis contro Rivers. Ricciere ancora in Fosbasso, cerca di raggiungere il centro dell'area, tira cadendo indietro, pallone del... Si va da Moraschini, prova ad attaccare uno contro uno, lo stoppa il miglior stoppato. E a Cobbins, Messimburga, prova a mettere il corpo sulla difesa di Enim. Sbaglia però il tentativo stoppatona di Rivers. Cobbins consegnato per Della Valle. Si protegge Della Valle, poi in mano destra, altra stoppata di Rivers. Taylor con l'extrapass per Messimburga. Palla persa la Germani, Rivers è un fattore. Adesso il computo delle stoppate. Rivediamo il tentativo di... ...di due minuti, Totè. Con Burakman, provando ad andare a fine in fondo, stoppatona di Rivers. Pena di regia, Cincerino tiene monitorato, poi Visconti prova a sbloccarsi, lo fa! Cazzi, no perché c'è... Crawford, Flaccadori gioca velocemente il pick and roll con Grasciulis. Arriva però nei tir Rivers, bravissimo nel tempismo a stoppare. Isevicius sullo stesso Diego Flaccadori, con la mano sinistra, prova ad attaccare il Rivers. Va fino in fondo, ma l'ha stoppata!